Scrivere una storia, essere il dio di un mondo da me creato, è sempre stata una delle mie più grandi passioni, è sempre stata quella luce che mi ha permesso di, in un certo senso, anche andare avanti. La creatività, il desiderio di poter essere un creatore, che poi è quello che si va anche ad interfacciare, che si va anche a collegare a quello che faccio su YouTube, ossia scrivere oppure parlare, quindi comunicare, comunque in qualche modo esprimermi, potremmo dire che sia appunto un mio fondamento. Ebbene sì, questa rubrica, questo Writing Fantasy, che è un pochettino scimmiotta Fighting Fantasy, che invece ha lo scopo opposto, ossia quello di parlare del gameplay, del ludico di Final Fantasy, appunto, sempre lì poi torniamo a parare. Ecco, questo spazio, questa playlist, mi vedrà parlare di quello che io penso, ovviamente tutti i pareri che metto, non una, non due, ma ventimila mani avanti, saranno chiaramente soggettivi. Io non sono un critico letterario, non sono una persona che si vuole mettere sul piedistallo ed impartire quella che reputa la propria visione assolutistica ed assoluta della sceneggiatura di un titolo, o comunque di tutto ciò che riguarda il non ludico. Però ci tenevo a farlo, ci tenevo perché analizzare i personaggi, analizzare le storie, analizzare anche il come il gameplay è funzionale alla storia, alla narrativa. Pensate ad esempio al job system, a come poi le classi diventano un modo per rappresentare parti della psicologia di un personaggio. Ricordiamoci Cecil di Final Fantasy IV, la dicotomia tra Paladino e Dark Knight. Ci sono molti aspetti che secondo me meritano di essere approfonditi ed è quello che io comunque nel mio piccolo vorrei provare a fare, anche in vista di serie che mi vedranno effettivamente raccontare delle storie su YouTube, ma per il momento è ancora presto. Prima dovrò finire le mie analisi dei singoli titoli, che nel frattempo saranno inframezzate da questi contenuti paralleli che sì richiedono dello studio dietro, ma non è necessario che io completi di volta in volta un titolo nuovo che io lo vado a rigiocare, per questo sono contenuti più facili da un certo punto di vista da scrivere perché richiedono meno tempo, però dall'altro non li reputo secondari oppure di qualità inferiore, proprio perché comunque vi è un forte approfondimento che non è però legato al tempo speso per portarlo a termine, ossia rispetto ad un Final Fantasy che magari impiega 20-30 ore per vedere la propria conclusione. Quindi ecco, credo di essere stato anche molto più breve rispetto a ciò che è stato il video di Fighting Fantasy, in cui ho discusso il progetto ed il motivo per cui l'ho voluto fare, ossia di scostarmi da quello che è la fantasia finale, in cui io parlo dei titoli in senso stretto. E a differenza di Fighting Fantasy posso promettervi che il primo episodio arriverà veramente molto presto, sarà il prossimo video del canale fondamentalmente, ed in realtà non c'è neanche molto altro da dire. sarà una serie in cui io parlerò, parlerò di scrittura, parlerò di personaggi, di personalità, di evoluzione, qualcosa che non potrò fare nella serie La Fantasia Finale, proprio perché lì devo comunque cercare di essere il più a 360 gradi possibile, cosa che a me personalmente fa un po' male, proprio perché sono uno a cui piace entrare nel dettaglio. Perciò qui potrò farlo, potrò farlo parlando di tutti i Final Fantasy senza un limite cronologico. Spero quindi che possa interessarvi, possa accendere in voi anche un po' la scintilla della discussione, possa ispirarvi magari a qualche conversazione interessante, quindi ci rivediamo meglio, non vedete la mia faccia perché parliamo comunque di video in cui mostrerò a schermo molte immagini e quindi sarebbe un pochettino inutile mostrarmi, però spero davvero di riuscire nel mio intento e che altro dirvi se non alla prossima!